Salve a tutti amici del verde, oggi andiamo a fare i trattamenti sul pesco. Sono dei trattamenti che servono per far crescere sulla nostra pianta bella fresca e rigogliosa e riguarderanno appunto le patologie fungine e gli insetti, ma saranno innanzitutto in modo totalmente biologico e non saranno a calendario perché non ha senso fare un calendario, ossia delle date, ma le faremo in base alle fasi fenologiche della nostra pianta, che vuol dire che la nostra pianta, mentre vegeta e metterà il suo germoglio, i fiori, i frutti che cresceranno, matureranno e quindi noi possiamo andare a visionare la nostra pianta a quello che sta facendo e applicare questo piano di azione. Vi garantisco che è semplicissimo, andiamo subito al video, non ci perdiamo in altre chiacchiere. Il primo controllo che si fa sul pesco è subito dopo la completa sfioritura e l'inizio della scamiciatura dei frutticini. Eccoci qua, questa è una fase fenologica molto molto delicata per il pesco e è probabilissimo l'attacco degli insetti come gli afidi e della bolla del pesco, che è una patologia fungina. La bolla del pesco è la patologia fungina più importante diciamo, è quella che spesso si presenta anche aver dato i nostri trattamenti invernali, come si presenta le foglie iniziano un po' a piegarsi, a cambiare colore, iniziano ad ingiallire leggermente, poi si formano delle bolle, delle asperità sulle foglie inizialmente gialle, poi iniziano a diventare di questo colore rossastro, la foglia, vediamo uno stato più avanzato, inizia, eccoci qua, inizia a diventare tutta quanta bollosa, si arrotola, diventa spessa, cicciottella e cadrà, quindi quando noi abbiamo questa situazione dobbiamo intervenire, innanzitutto se abbiamo poche piante ci conviene andare ad eliminare le foglie oramai colpite, le allontaniamo. Dopo aver allontanato queste foglie dalla nostra pianta si fanno il bicarbonato di potassio, si fanno tre trattamenti consecutivi, uno dietro all'altro, distanziati solo di sette giorni, con 5 grammi di bicarbonato di potassio da sciogliere in un litro di acqua, e si fa in tarda serata questa nebulizzazione sulla nostra pianta. Vi sto mettendo qui in alto il link per vedervi il bicarbonato di potassio come antifungino a largo spettro, anche contro l'oidio, la botrite, per quanto riguarda gli insetti controlliamo le foglie, i giovani germogli possono essere infestati dagli afidi, li stiamo vedendo qua in anteprima, sono questi insetti che si mettono tutti in gruppo intorno alle foglie giovani germogli di colore marrone o verdino, e a questo punto se l'attacco non è come in questo caso così violento, possiamo andare con il sapone molle potassico, vi sto mettendo qui sopra il link su come si usa, quando ci sono attacchi così massicci che perdiamo addirittura la pianta, conviene subito passare al piretro verde, vi sto di nuovo mettendo qui sopra il link del video su come si utilizza. Un'altra fase fenologica molto delicata è l'accrescimento dei frutti, anche qui dovremmo sempre andarci a controllare la parte della bolla del pesco, facciamo gli stessi trattamenti se è necessario, di quelli che vi ho detto poc'anzi sulla sfioritura ed inizio scamiciatura dei frutticini. Anche un controllo sull'oidio, l'oidio è un fungo che si presenta con un nicelio bianco sopra le foglie, si presenta soprattutto in quelle zone di chioma dove diciamo c'è poc'aria e poca luce, quindi all'interno della chioma del nostro albero di pesco e se è il caso eventualmente facciamo subito una leggera potatura a verde, quindi liberiamo un po' all'interno della chioma e facciamo entrare un po' di luce, un po' di aria e poi andiamo a trattare con lo stesso prodotto del bicarbonato di potassio e la stessa frequenza come se dovessimo combattere la bolla del pesco, quindi facciamo tre trattamenti distanziati di sette giorni l'uno dall'altro, 5 grammi di bicarbonato di potassio da sciogliere in un litro di acqua. Importantissimi anche gli insetti in questa fase, gli afidi, quindi già li conosciamo e sappiamo come andarli ad eliminare con il sapone oppure con il piretro, ma abbiamo anche la cocciniglia bianca del pesco, che è praticamente un insetto di due millimetri circa, come se fosse un mezzo grano di pepe attaccato alla corteccia della pianta sulle parti dei piccoli fusti, questo scudetto bianco al centro ha anche una piccola macchia arancione che attacca i rametti, debilita chiaramente la pianta. A questo punto un trattamento biologico è da fare con l'olio di lino oppure anche l'olio bianco, facciamolo sempre in tarda serata, controlliamo le temperature e l'utilizzo di questi oli. Un altro fastidiosissimo insetto è la narzia e la sidia, sono due tignole del pesco, sono piccole farfalle, i bruchi scavano delle piccole gallerie all'interno dei giovani rametti e provocano poi l'avvezzimento e nel frutto scavano delle gallerie nella polpa, quindi ce la fanno marcire, ci fanno anche cadere i frutti e addirittura attaccano anche il piccolo picciolo e quindi fanno fare la cascola anticipata ai frutti già belli grandini. In questo caso si trattano con un modo biologico, si appendono le trappole cromatiche con le soluzioni all'interno e quando nella trappola vediamo due o tre farfallette catturate, allora trattiamo con il piretro verde in modo da eliminare la massa degli insetti adulti, oppure possiamo anche andare a trattare con il bacillus questi piccoli insetti. L'ultima fase fenologica per cui si fanno i controlli eventualmente i trattamenti sulla pianta del pesco è a prematurazione e qui possiamo avere ancora all'oidio e sappiamo come trattarlo, possiamo anche avere la botrite che va a attaccare i frutti in prematurazione, in questo caso se compare sul frutto un avvezzimento e una muffa grigia sappiamo che è questa patologia fungina, sempre bicarbonato di potassio in soluzione come se dovessimo combattere l'oidio oppure la bolla del pesco. Anche l'amoniglia in questo caso può attaccare la nostra pianta del pesco, l'amoniglia è un fungo che inizia ad attaccare i giovani rami, addirittura la possiamo notare anche in fioritura, l'avvezzimento quindi della parte floreale, dei piccoli frutticini, se notiamo dei piccoli rami secchi sulla parte esterna della pianta andiamo subito ad eliminare questi rami togliendo anche 10 centimetri di parte verde verso l'interno della pianta in modo che siamo sicuri di aver tolto tutta quanta la patologia fungina e poi facciamo sempre un trattamento con bicarbonato di potassio 5 grammi ogni litro di acqua. Anche gli insetti, oramai gli afidi non dovrebbero esserci più a far danno, però è presente sempre la siria e la narzia, sono queste due pignolette e oramai sappiamo come combatterle. Ripeto, per quanto riguarda le piccole larve andiamo ad utilizzare il bacillus che le elimina in modo completamente biologico. E chiudo qui questo interessante video ragazzi, mettetevi un bel mi piace se vi è piaciuto, gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link interessanti, un abbraccio a tutti, iscrivetevi al canale che è carino, dai ciao ragazzi! Grazie a tutti!